Le rose rosse furono protagoniste anche di miracoli, per esempio Santa Rosa di Viterbo, un nome e una garanzia, portava spesso di nascosto il pane ai poveri. Un giorno il padre, insospettito dal comportamento, le chiese cosa nascondesse nel grembiule. Quando Rosa lo aprì, invece del pane, ah, miracolo, c'erano tante bellissime rose.